buongiorno a tutti eccoci qua un caro saluto di nuovo con la mia informazione sperando come sempre di poter fugare qualche dubbio di poter dare qualche notizia in più rispetto alle tante notizie e alle tante cose che accadono ogni giorno allora tre argomenti veloci cerco di essere veloce assicurazione covid ecco vi comunico che sicuramente ce lo sapete che il fondo previdenza e premi di cui sono anche membro consigliere di amministrazione ha appena rinnovato per sei mesi di nuovo l'assicurazione covid con la unisalute ecco ci tengo solo a dire una cosa ovviamente io sono favorevole alla al rinnovo dell'assicurazione ma personalmente l'ho votato contrario con motivazione perché ritengo che si potevano fare scelte migliori con questo non vuol dire che la scelta ricaduta su unisalute sia peggiorativa però secondo me si poteva riflettere un pochettino di più poi magari nel futuro sarà ancora sarò ancora più chiaro fesi premio di produzione stiamo lavorando cedermine per cercare di farlo di farlo pagare per il mese di giugno almeno la prima tranche fondamentalmente la settimana prossima al cocer sarà portato un documento un documento del tavolo tecnico di cui anche in questo caso io insieme ad altri delegati uno per categoria ne facciamo parte io caforio minuto e il colonnello buccoliero e praticamente le proposte sono più o meno sono due sostanzialmente una come con i so con il lasciare il premio di produzione uguale allo scorso anno e con gli 8 milioni residui distribuirli a pioggia a tutti quanti quindi circa 70 euro in più a persona seconda proposta dare anziché 70 euro in più a persona confermando il premio di produzione dello scorso anno cercare di venire incontro a quelle categorie oa quegli incarichi che hanno diciamo così che hanno delle difficoltà maggiori per portare avanti il loro lavoro uno sono gli infermieri anzi il personale medico e paramedico ai quali forse dobbiamo qualcosa per questo discorso pandemico che ci ha colpito in quest'ultimo anno sono stati in prima linea e credo che il giusto riconoscimento gli vada dato altro altre categorie di persone che per lo meno questo l'ho proposto io ma è come se fosse come se ci fosse stata unanimità praticamente i referenti telematici a doppio incarico o ad incarico esclusivo perché sono veramente persone che vengono sfruttate e non gli si riconosce mai nulla quindi una di queste due proposte c'è una terza proposta che è stata proposta da un delegato del cocere che è schiralli che io peraltro condivido e di trovare la soluzione per dare un qualcosa in più ai militari di servizio alla caserma o agli addetti di recensione pubblico delle stazioni di terza fascia perché tutto fanno tranne che i piantoni e quindi c'è questa proposta che tende a far diminuire diciamo così un pochettino la scelta di distribuire a pioggia tutte le risorse e di riconoscere a queste persone qualcun qui in più proprio per la grande mole di lavoro che fanno ovviamente sarà il cocer a dover votare io mi auguro ovviamente che passino queste proposte però è la maggioranza che decide però ci tenevo a farvelo sapere un'altra cosa questo magari va a vantaggio dei colleghi che lavorano in ufficio come sapete noi abbiamo da qualche anno a questa parte abbiamo inventato la presenza in servizio abbiamo ripristinato con il Fesi la presenza in servizio ebbene non potendola più calcolare sui giorni lavorati perché ovviamente abbiamo avuto in alcuni ambiti di lavori giorni alterni un giorno sì e un giorno no abbiamo deciso e abbiamo valutato di pagarla in base alle ore ogni sei ore lavorate un giorno di presenza quindi sempre fino a un massimo di 280 giorni contratto di lavoro siamo in attesa della convocazione ormai dovrebbe essere imminente andiamo a vedere cosa cosa riusciremo a tirare fuori da questi da questi incontri però sicuramente mai mai ci convocano e mai potremo essere chiari noi nelle nostre richieste e loro nelle loro offerte concorsi futuri c'è un problema non abbiamo più posti per brigadieri e probabilmente abbiamo pochi posti per maresciallo quindi per quanto riguarda i concorsi interni per brigadiere e maresciallo sicuramente per per il prossimo anno o per i primi concorsi utili si dovrà forse forse rivedere la circolare per quanto attiene al reimpiego di questi vincitori di concorso per quanto mi riguarda io sono sarei propenso a fare dei concorsi per vacanza organica in modo che nessuno si può lamentare però ovviamente questa è una mia idea per la quale mi batterò ma sempre ovviamente sarà il comando generale a dover a dover esprimersi in del senso il cocher interverrà come suggerimento di pensiero ecco ricorso pensioni si sta si stanno si sta cominciando a palesare quello che in un certo qual modo io temevo vi ricordate quando vi ho detto fate ricorso l'importante è che lo fate con qualcuno che sia fortemente conoscitore della materia perché il rischio ovviamente è che seppur si ha ragione si rischia di perdere l'usic non ha sponsorizzato come tutti sapete nessun ricorso ma abbiamo aderito alla proposta mandolesi che a differenza degli altri avvocati ci ha proposto uno sconto per i nostri iscritti diciamo detto ciò ci sono già state alcune sentenze negative non dell'avvocato mandolesi ma di altri avvocati queste sentenze però non attenzione queste sentenze non devono far scoraggiare nessuno perché se si vanno a leggere le sentenze ovviamente non si può dimostrare in alcuni casi faccio un esempio il silenzio in adempimento se hai fatto una lettera alla funzione pubblica cioè si deve un ricorso è come quando come dire lo si può portare avanti lo si può vincere quando si può dimostrare con dati di fatto non solo il silenzio in adempimento ma un percorso fatto per poter arrivare a quelle che sono le nostre le nostre speranze di vincita i riconoscimenti dei quantum per il mancato avvio della previdenza complementare quindi voglio rassicurare chi ha fatto ricorso con avvocati che sono conoscitori della materia profondi conoscitori della materia non è che io voglia fare un referenzialismo verso l'avvocato mandolesi ma credo che in questo momento sia l'unico avvocato che da 11 anni che porta avanti questo tipo di percorso tutti gli altri ci si sono avvicinati a questo percorso negli ultimi mesi ecco la differenza probabilmente la farà l'esperienza almeno me lo auguro me lo auguro perché vorrà dire che abbiamo consigliato bene e che ho consigliato bene i nostri iscritti circolare sullo straordinario come avete avuto modo di notare nei giorni scorsi proprio su richiesta del cocer carabinieri che aveva lamentato delle che aveva lamentato una poca chiarezza nel sul 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 pagamento non tanto sul pagamento sull'effettuazione del lavoro straordinario perché secondo il cocer straordinario è qualcosa che va oltre l'ordinario sembrava che in tali casi ma sicuramente esagerando come se fosse diventato lo straordinario uno status quo dato che questo non è il comandante generale ha emanato una circolare e questa circolare sicuramente non deve preoccupare nessuno se non chi lo utilizzava per eccesso il ricorso lavoro straordinario quello che io dove io voglio arrivare è che le ore stanziate pro capite non possono essere destinate ad altri se fatte dall'interessato già questo è un buon punto di partenza dopodiché si deve lavorare sul resto per ultimo settimo argomento e la chiudo vorrei fare ironicamente vorrei dire un grazie al ministro brunetta e al ministro guerini che hanno appena firmato un decreto interministeriale che per l'aumento dei controvalori vitto per quanto riguarda la gestione delle menze a gestione diretta sono stati aumentati in alcuni casi di un centesimo in atti di due o tre centesimi troppa bontà signori ministri speriamo che non siete così diciamo così buoni anche quando andremo a sederci per il contratto di lavoro spero di essere stato chiaro utile e vi saluto e vi rimando al prossimo video ciao a tutti